Prima architetta della storia, detta l'architettrice, Plautilla Bricci dedica tutta la sua vita all'arte. Nata in una famiglia amante della pittura, Plautilla impara a dipingere con il padre e si immerge completamente nel lavoro, senza mai sposarsi. Progetta e realizza la villa dell'abate Elpidio Benedetti, che le commissiona la realizzazione della Cappella di San Luigi, nella chiesa di San Luigi dei Francesi, a Roma. Lavoro dopo lavoro, Plautilla costruisce la propria carriera, arrivando persino a dirigere i lavori in cantiere e a litigare con gli operai, poco disposti a eseguire gli ordini ricevuti da una donna. Io sono Carmen La Terza e questo è Donna Intrepide, un podcast di Libroza che racconta le storie di donne che hanno superato gli stereotipi del loro tempo, hanno vinto i pregiudizi di genere, hanno sfidato le aspettative della famiglia e della società. Donne più e meno famose, ma sempre donne vere, donne con pregi e difetti, donne che incarnano le contraddizioni dell'epoca in cui vivono, donne a volte difficili, spesso solitarie e controcorrente. E proprio per questo, donne intrepide. Plautilla Bricci nasce il 13 agosto 1616 a Roma. È la terza dei figli di Giovanni e Chiara Recupito. I genitori le danno il nome di una zia paterna dal temperamento e dalla vita fuori dall'ordinario. La zia infatti viveva con un artista senza essere sposata e una volta rimasta vedova combatte contro i figli di lui per preservare il proprio diritto all'eredità lasciatale dal compagno. La piccola Plautilla frequenta la zia che diventa per lei un modello femminile di riferimento e dalla quale eredita lo spirito battagliero e la capacità di difendere le proprie scelte e le proprie conquiste. L'infanzia di Plautilla scorre serena ed è particolarmente influenzata dall'esempio e dalla presenza paterna. Giovanni Bricci è un personaggio istrionico, pittore e musicista dilettante, si occupa anche di poesia e teatro in veste di attore. L'ambiente familiare è dunque culturalmente vivace e ruota intorno alla passione dei genitori per l'arte. Tra l'altro la famiglia Bricci vive accanto al noto pittore Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d'Arpino, e Plautilla cresce nutrendosi di pittura e musica. Giovanni Bricci ha stretto una bella amicizia con il Cesari e ne frequenta con regolarità la casa, che funge da circolo culturale ed è animata da tanti artisti, attori e intellettuali capitolini. Così, dopo aver ricevuto una prima educazione artistica dal padre, Plautilla entra a far parte dell'atelier del Cavalier d'Arpino, in cui si confrontano diversi apprendisti e studenti. Giovanni Bricci, infatti, intuisce subito il talento della figlia per il disegno e la pittura e cerca di sponsorizzarne la carriera, sfruttando l'ampia rete di amicizie e conoscenze che ha intessuto. Plautilla asseconda i desideri paterni, che coincidono con i propri. Purtroppo, però, deve fare i conti con tutte le difficoltà di una carriera, che di norma è preclusa alle donne. Inizia così occupandosi di miniature, ricamo e pitture di piccole dimensioni, tutte occupazioni artistiche tipicamente femminili. Plautilla, però, impara presto come funzionano le cose e acquisisce dal padre la capacità di intessere importanti relazioni sociali. Il suo nome comincia a circolare a Roma a seguito di un episodio particolare. Nel 1640, quando ha 24 anni ed è intenta a dipingere il quadro di una Madonna con Bambino, destinato alla chiesa dei Carmelitani di Montesanto, si trova in difficoltà nel realizzare il volto della Vergine. La figura di Gesù Bambino non le ha dato problemi, ma le ombreggiature sul viso della Madonna non la convincono. Presa dallo sconforto, Plautilla decide di interrompere il lavoro per andare a riposare, nella speranza di trovare maggiore ispirazione al risveglio. Alzatasi, torna davanti al cavalletto con l'intenzione di terminare il quadro, ma, con sua grande sorpresa, il volto della Madonna è già stato completato. Plautilla racconta il fatto ai frati carmelitani, che gridano al miracolo, e la notizia si diffonde in tutta la città. Qualcuno sospetta persino che la storia sia frutto di un'abile messa in scena orchestrata dal padre per spingere la carriera della figlia. Di certo, Plautilla approfitta della notorietà causata dall'evento, che le consente di conquistarsi un certo credito presso l'ordine dei carmelitani. I frati, infatti, la introducono nel convento di San Giuseppe a Capolecase, di Roma, dove Plautilla conosce Suor Maria Eufrasia della Croce, al secolo, Flavia Benedetti, una monaca carmelitana, pittrice e dilettante, con cui nasce subito un rapporto di simpatia e stima reciproca. Sempre più concentrata sulla propria carriera, Plautilla non sogna il matrimonio e la maternità, come farebbe qualsiasi giovane della sua età, e non cerca neppure un marito per andare via dalla casa paterna. Continua a vivere con i suoi genitori, ma cerca di non pesare economicamente su di loro e prova con impegno a sostentarsi con il proprio lavoro di artista. Grazie alla piccola notorietà che ha raggiunto, Plautilla riesce a ottenere una commessa per l'umanista Antonio degli Effetti. Lavora così con altri artisti alla realizzazione di un grande mobile da collezione. Pian piano la sua cerchia di committenti si allarga sempre di più e lei viene in contatto con i personaggi più in vista e le famiglie più potenti di Roma. Plautilla impara anche a seguire la corrente e a ispirarsi alle tendenze artistiche più in voga, in modo da riuscire a strappare qualche commessa in più. Entra così in contatto con l'importante famiglia Barberini e comincia a lavorare per loro. Nel 1655 Plautilla viene ammessa nell'Accademia di San Luca, dove si perfeziona ulteriormente. Per lei è un passo importante perché ha ricevuto una preparazione quasi solo privata e frequentare l'Accademia le consente di assumere una posizione più professionale agli occhi dei committenti. In quegli anni l'ambizioso abate Elpidio Benedetti, segretario del potente cardinale Giulio Mazzarino, viene incaricato di scegliere e acquistare oggetti preziosi e opere d'arte nella città papale da mandare alla Corte di Parigi. I lavori di Plautilla colpiscono molto l'abate, con il quale c'è già un legame indiretto. La sua amica Suor Maria Eufrasia, infatti, è la sorella di Elpidio Benedetti. Nel 1660 l'abate le commissiona la sua prima pala d'altare. Per Plautilla è una vera svolta, perché si tratta della sua prima opera di grandi dimensioni. L'opera, dedicata alla Natività della Vergine, è richiesta dal monastero benedettino di Santa Maria della Concezione a Campo Marzio, la cui madre badessa è Anna Maria Mazzarino, nipote del famoso cardinale. Elpidio Benedetti diventa così per Plautilla un vero e proprio mecenate, trovando per lei commissioni importanti e mettendola in contatto con altri grandi artisti dell'epoca, come Gian Lorenzo Bernini, Pietro da Cortona e Andrea Sacchi, che fanno parte della sua cerchia di protetti. La vera svolta lavorativa per Plautilla arriva però nel 1663, quando l'abate commissiona a lei e a suo fratello Basilio, già architetto, la progettazione e la costruzione di una villa che sorgerà subito fuori Porta San Pancrazio. Quando Plautilla mette mano al progetto di Villa Benedetta ha già 47 anni, è una pittrice affermata e già da tempo segue i progetti architettonici di Gian Lorenzo Bernini, di cui assimila lo stile. Si impegna così nel nuovo lavoro e disegna di suo pugno tutti i progetti della villa, cercando di andare incontro ai desideri del committente. L'abate infatti si diletta di architettura e interviene nella fase di ideazione della casa. Inoltre Plautilla ha un legame molto stretto con il fratello Basilio, con cui ama lavorare e con cui si confronta molto spesso sulle scelte architettoniche e artistiche da adottare, accettando i suoi suggerimenti e le sue critiche. Nonostante l'opera venga infine attribuita a Basilio, è lei a elaborare il progetto della villa con una forma allungata, insolita per l'epoca, ma assai apprezzata. Edificata a similitudine di un vascello sopra uno scoglio, la villa ha la forma di una grande nave da guerra, di cui rappresenta perfettamente tutte le parti esterne, che non vi mancano che gli alberi e le vele. Il soprannome Il Vascello, attribuito fin da subito alla villa, passa presto a indicare tutta l'area su cui sorge. Ma una donna architetta, autrice del progetto di una villa nobiliare e presenza fissa in cantiere, è una novità assoluta per l'epoca, mal digerita soprattutto dalle maestranze. Plautilla fatica a farsi prendere sul serio dagli operai e si ritrova a dover difendere le proprie scelte e a discutere più e più volte con il capomastro, Marco Beragiola. Quest'ultimo infatti non sopporta di dover ricevere ordini da una donna che lui non riconosce come capocantiere. Plautilla però non cede e preferisce continuare a scontrarsi con il capomastro invece di delegare l'impegno al fratello. Alla fine è costretto a intervenire l'abate Benedetti in persona, che porta Plautilla davanti a un notaio per redigere un regolare contratto in cui si afferma che la casa deve essere costruita seguendo il progetto con tre piani fatto dalla signora Plautilla Bricci architettrice, sia sulla fronte, sui lati e nella parte posteriore, così come è nei disegni fatti da Plautilla, che sono stati dati a me per accompagnare questo documento. Il contratto costituisce per Plautilla il riconoscimento della sua posizione professionale e grazie a questo può continuare a dirigere i lavori a pieno titolo, con buona pace di Beragiola e di tutti gli operai. Oltre a occuparsi della costruzione della casa, Plautilla ha l'occasione di intervenire anche come pittrice per la decorazione degli interni. Alla sua mano è affidata la decorazione di una volta a timpano, che lei dipinge ritraendo la felicità, circondata da figure allegoriche. Inoltre, l'abate le affida la realizzazione di una pala da collocare sull'altare della cappella privata della villa, che raffiguri l'assunzione della Vergine. Grazie ai lavori per la villa, il rapporto professionale con il Benedetti diventa sempre più stretto. È di nuovo lui, infatti, a proporle una nuova grande commessa, la più importante della sua carriera artistica, la realizzazione della cappella di San Luigi nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. Plautilla è molto contenta dell'opportunità di esprimersi nuovamente a tutto tondo, come architetta e pittrice. Progetta, infatti, la pianta e l'alzato della cappella. Come al solito, è molto attenta a seguire le indicazioni e i desideri del Benedetti. Non lascia, però, nulla al caso o alle decisioni altrui. È sempre presente, nelle varie fasi della progettazione e della realizzazione, tanto che sceglie in prima persona i marmi da utilizzare, disegna gli stucchi e dipinge di suo pugno la pala con la gloria di San Luigi IX. Plautilla è fiera della posizione che ha saputo ritagliarsi e non è disposta a cedere ad altri i meriti del proprio lavoro solo perché donna. Questa volta, dunque, appone la sua firma alla base della pala d'altare, scrivendo Plautilla Briccia Romana Invenit et Pinsit ovvero Plautilla Bricci Romana Inventò e dipinse. Plautilla decide quindi di usare il verbo Invenit al posto del consueto Fecit e in questo modo rivendica per sé il ruolo di creatrice e non solo quello di semplice realizzatrice dell'opera. Quando la cappella viene inaugurata è un grande successo la costruzione trova l'assenso sia del popolo che dei nobili committenti. Benedetti è così contento del lavoro di Plautilla che per ringraziarla le assegna una casa in usufrutto. Nel 1677 Plautilla lascia finalmente l'abitazione di famiglia e insieme all'amato fratello Basilio si trasferisce nella nuova casa nel quartiere di Borgo Nuovo. Grazie alla sua tenacia è riuscita a costruirsi una posizione e a quotarsi come artista. Nel 1675 infatti riceve una commessa dalla Compagnia della Misericordia di Poggio Mirteto che la incarica di realizzare una grande tela dipinta a olio su entrambi i lati. Plautilla da un lato dipinge la nascita di San Giovanni e dall'altro il Martirio di San Giovanni e riceve per l'opera un compenso di 100 scudi. I suoi colleghi uomini ricevono compensi maggiori per un lavoro dello stesso genere ma Plautilla ha strappato comunque un'ottima retribuzione considerata all'epoca un pagamento di livello alto. Nella realizzazione del Martirio di San Giovanni Plautilla cerca di misurarsi anche con la raffigurazione dei corpi umani. Nella scena introduce la figura di Salome che riceve dal carnefice la testa del santo. Ma Plautilla non ha potuto studiare l'anatomia del corpo umano facendo pratica con modelli dal vero come invece fanno tutti i giovani pittori e nonostante il suo impegno la realizzazione del braccio in tensione del carnefice rivela la profondità di questa lacuna. Purtroppo nel 1692 Basilio muore e Plautilla si sente all'improvviso sola e senza appoggi. È molto anziana e non vuole rimanere a vivere da sola nell'abitazione dove ha vissuto insieme al fratello. Accanto alla casa sorge il convento di Santa Margherita e lei decide di ritirarsi a vivere con le suore. Non prende il velo ma è ospite fissa del convento dove muore il 13 dicembre 1705 all'età di 89 anni. Plautilla Bricci riposa nella basilica di Santa Maria in Trastevere accanto all'amato fratello Basilio. La sua attività di architetta nella Roma del XVII secolo la pone tra le precorritrici di un cammino di emancipazione che darà esiti concreti solo molti secoli dopo perché Plautilla Bricci rimane l'unica donna della sua epoca in Italia e in Europa a cui siano attribuiti progetti architettonici. Se ti è piaciuta questa storia ne puoi trovare tante altre nei libri della collana Donne Intrepide editi da Libroza e disponibili in tutte le librerie. Donne Intrepide è un podcast scritto e condotto da me Carmen La Terza e prodotto da Libroza. Io ti ringrazio per l'ascolto e ti aspetto alla prossima storia. Alla prossima Donne Intrepide Donne Intrepide